Buongiorno cari concittadini, sono qui a farvi delle comunicazioni importanti. In questi giorni di festa ognuno di voi andrà a onorare i propri defunti al cimitero. Nonostante i lavori in corso, perché stiamo ampliando il cimitero, lo stiamo ristrutturando, infatti ci farete caso ai bagni nuovi, ai cassonetti che abbiamo messo proprio per rendere il nostro cimitero più accogliente. Quindi, nonostante i lavori in corso, abbiamo sistemato il più possibile il nostro cimitero. Voglio farvi degli avvisi importanti, perché abbiamo aperto l'area parcheggio della zona BIP, molto ampia, quindi potete parcheggiare pure le macchine al parcheggio dell'area BIP e venire qui al cimitero a piedi. Abbiamo ripulito il piazzale del cimitero, quindi potete parcheggiare pure davanti al piazzale in modo sistemato e regolare. Mi raccomando, non mettiamo le macchine in modo selvaggio. Per questo abbiamo messo a disposizione la protezione civile, che vi indicheranno dove parcheggiare, i vinci rupani. Ci tenevo a dirvi e avvisarvi di questo, perché stiamo lavorando da diversi giorni per garantire un'apertura degnitosa in questi giorni che ognuno di noi verrà a commemorare i propri defunti. Un saluto a tutti e un abbraccio. Grazie.